Quindi dai tempi di Silvestre Stallone, quando veniva a Gambettola a Cesena a comprare i suoi prodotti, a farsi il suo technology in casa, era famoso ai tempi, lo è tuttora, ma quando faceva Rocky, faceva Rambo, pensare di venire in un paese di 5.000 abitanti da Los Angeles, col suo aereo privato, atterrava a Rimini, devo dire, non è una cosa che capita tutti i giorni. La prima volta che venne, poi mi chiese di andare a mangiare qualcosa perché era nel metà del pomeriggio, io non sapevo, perché eravamo ancora in questo piccolo spazio di 100 metri quadrati, io non lo porto in una trattoria a Gambettola di fianco alla technology. Tu e Stallone che andate a pranzo, entra in una trattoria, la signora che mai mi conosceva come una sorella, lo guarda e dice, ma a me questo sembra di conoscere.